Come sta, Chris? Mia madre è morta. Sono in un posto dove avevo giurato che non sarei più tornata. Stasera c'è il concorso a nuovi talenti organizzato dalla parrocchia. Primo premio, due biglietti per l'URD. Non ti avrei mai riconosciuta. 40 anni fanno questo effetto. Ma perché se n'è andata in America? È stata costretta a partire. Scusa per quello che ho fatto. All'URD autista! Un viaggio di confronto e riconciliazione attraverso il potere dell'amicizia. Non si viene all'URD per i miracoli, ma per andare avanti quando non c'è nessun miracolo. The Miracle Club, questa sera, 21.30, Rai 1.